Aperto i battenti da qualche giorno la nuova area sgambamento cali all'interno del parco archeologico di Ponte Cagnano-Faiano. 2500 metri quadrati di verde, spazi naturali ombreggiati, recinzione alto 1,80 m, panche, tavoli e fontana con acqua corrente. In poche parole uno spazio che consentirà agli amici a quattro zampe di scorazzare in libertà. L'area sarà cogestita dal Circolo Occhi Verdi Lega Ambiente Ponte Cagnano insieme con l'Associazione Culturale Ombra, la Proloco Etruschi di Frontiera e le associazioni Freedom, Renovazio e il Ponte per il Futuro. È un servizio che abbiamo voluto offrire alla cittadinanza di Ponte Cagnano in assenza di uno più centrale cittadino. Bisogna ricordare però che il parco archeologico è l'unico polvone verde, continua ad essere negli anni l'unico polvone verde urbano cittadino. Per cui era impossibile pensare di organizzare un'area del genere, sgammamento cani, al centro città. Era stato proposto anche la zona dietro le poste a Via Raffaello Sanzio ma lì insistono altre realtà per motivi igienico-sanitari e anche di rumori di vivibilità abbiamo deciso di spostarla al parco archeologico. Chi vorrà fruire dell'area? Quali sono gli orari? Diciamo un po' di informazioni. L'ingresso è gratuito anche se stiamo pensando ad una sorta di card amici dei cuccioli, amici del parco. Poi più avanti vi daremo notizie in merito. Gli orari sono dalle ore 9 fino alle 17 perché l'utenza di quest'area coincide con gli orari di apertura del parco archeologico. Dall'estate gli orari cambieranno e saranno inoltrati fino alle 20 e 30. Grazie. Grazie.